Ecco, questa è la situazione. Abbiamo ospiti oggi. Siamo nell'Aula Palatina Accademia. Ce la fai? Se non ce la fai, dimmelo, mi fermo. Appena non ce la fai, Vinicio, fermati e io mi fermo. Saluta, Margherita, vieni qua. C'è Margherita in diretta sul Palatino. Saluta, saluta. Sì, Facebook in diretta. Tu puoi contattarmi e io ti mando tutti perché così senti la musica finalmente. Caterina, Caterina, no Margherita, Margheretta. Bene, prof, che cosa le chiamo? Ronde, fondue? E même frappée. Oh mon dieu. Andiamo. Cesare, guarda avanti. Cesare, non fare brutte mosse. Cesare, vergognati. Pronti? Sì, guarda avanti. Chiara, guarda avanti. Cata, Slack, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.